Che sprecona! Qua, qua, qua! Vai, di là, brava, mangia quella a sinistra, se lo vieni! Questo, 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 questo! Oh, si, squalo! Attenzione, squalo bianco! Squalo bianco, non è la bianca! Attacca, 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 siiii! Cosa stai facendo? Il pesce! Ma come il pesce? Come fa il pesce? Ma abbiamo capito! Ma il pesce fa così! La Reppy è diventata un pesce, perché oggi dobbiamo mangiare per vincere! Esatto! Per diventare un pesce, per diventare un pesce! La Reppy è diventata intelligente come un pesce, eh! Non voglio prendere in ziro i pesci, quindi pesci scusatemi! I pesci però non è che sono tanti intelligenti! Allora! I delfini si! I delfini sono molto intelligenti, però se proprio proprio la vogliamo dire... Sei un pesce palla! No! Non volevo dire questo, volevo dire una cosa molto interessante! Il polipo, ragazzi! Ah, il polipo! Il polipo è l'animale, uno degli animali più intelligenti della natura! Quindi, riusciremo a diventare un polipo oggi perché siamo Nemo! Ma lei mi ascolti ogni tanto! Sto ascoltando che voglio giocare! Allora, quindi! In questo fantastico giochino siamo il pesciolino Nemo e dobbiamo andare in giro per mangiere, mangiere, mangiere! Ti faccio vedere! No! Mangiamo gli altri Nemi! Sì, però devi mangiare solo quelli che sono verdi perché altrimenti gli altri ti mangiano a te! Sì, sono le razze e gli squali! Guarda! Sono diventato un pesce di livello 2! Vai, vai! Mangia, mangia! Sei Dori! No, si assomiglia a Dori! Oh! Il pesce granchio! Cos'è? Ma chi è questo? No, è il pesce... No, io non so cos'è quello! È quello che sta sotto la sabbia e che d'estate ti dà di pizzico! Ma no, ma non è quello! È il pesce... Il pesce spino? Il pesce ragno! Il pesce ragno? Il pesce ragno! Non è che siamo tanto esperti! Il pesce cane! Non è un pesce cane! Vabbè, allora ragazzi! Il pesce ragno? Scriveteci qua sotto nei commentini secondo voi di che pesce si tratta! Comunque sia, siamo ancora Nemo! Ti ricordi, dobbiamo upgradearlo! Quindi abbiamo 325 monete che guarda c'è la moneta con... E perché spenderli proprio tutti? E perché spenderli proprio tutti? Vai, aggiungi pesce, aggiungi pesce! Non abbiamo più soldi! Direi questo che ci dà più soldi se mangiamo! Vai! Quindi uniamo... Ok! Ma che be' questa è la raga mia! Ok! 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 Fusione pesce! Ecco! Sì! Questo pesce chi è? Io l'ho detto! Secondo me è il pesce ragno! Però questo... Aspetta! Questo qui mi sa che te lo vendono piccolino anche! Sì! Nell'acquario! Per averlo nell'acquario! Però qui siamo nel mare! Quindi di sicuro è un pesce di acqua salata! Quindi esperti di pesce di acquari! Fateci sapere qua sotto nei commenti che razza di pesce è! Hai finito di parlare? Vabbè non si può dire nulla! Perché io voglio giocare! 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 Uh! Questo è di livello 2! Attenzione! Mangia! 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 A breve upgrade Rebi! Siamo di livello 3? Attendo allo squalo! Siamo di livello 3 ragazzi! Guarda un po'! No ma non c'è un pesce di livello 3 che posso mangiare? E' più avanti! Voglio mangiare un pesce! E' là! E' là! No! Ora va via! Attenzione! No! Male male Rebi! Ma sono rimasta di livello 3! Volevo diventare la razza! Allora vediamo un po'! Si può sempre fare così! Si può sempre upgradeare! No! Non ci sono più i pesciolini dormi! Non riesci ad upgradeare niente! Te lascetti di prendermi in giro! Basta prendermi in giro! Pesa mangiare! Allora dobbiamo diventare degli squali! Ce la faremo entro oggi e diventare degli squali! No! Vai a sbattere dietro il sedere degli altri pesci! Eh ma scusa ma scusa perché se ne stanno andando tutti? Guarda quale sei Rebi! Ma perché mi vengono a sbattere? A posto! Non faremo mai il record! Dai io voglio andare al livello 3! Dove sono? Mangia tutti i pesci 2 ma non hai visto! Ma li ho visti ma non c'è abbastanza pesci! Rebi malissimo! Allora l'ultima volta dai! No no no! Non c'è due senza Rebi! No è il mio turno! Comunque guarda guarda! Ti faccio vedere anche! Dobbiamo far salire il guadagno! Bella razza! È una razza Rebi! Ma bellissima! Allora vai ci sono! Guarda sono a livello 4 hai visto? Il livello 4 è una bella razza eh! Se l'ho fatta! Perché 2 su 48? 2 su 48? Perché devi mangiare 48 per arrivare a livello 5! Va bene però se trovo solo pesci da... Anche i pesci zirini lo sanno! Cioè i pesci da 1 trovo qui! 4! Attenzione! Dai 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 dai! C'è l'upgrade! Dai! Oh! 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 No Rebi no! Ma è orribile sto pesce! È il piragna questo! È il piragna! È un pesce piragna! Basta! Basta tocca a me! Oh! Hai giocato troppo! Aspetta aspetta! No aumenti i soldi! Aumentiami i soldi! Guarda tieni tutti i soldi che vuoi! Ma mia che ignorantezza! Guarda eh! Ta da da daaaan! Ma vabbè non male non male! È sempre più difficile perché ne servono sempre di più piccolini per i grandi! Vuoi vedere come si gioca? Vai facci vedere! In fondo al mare! Sì va bene! In fondo al mare! Eh sì adesso! Guarda giochi in te c'è il livello 4 davanti! Era lì! Non l'hai preso! Livello 4! C'era il livello 4 davanti e non l'hai preso! Cioè Mori sei scarso eh comunque! Adesso ci sono un bel piragna! Sei molto scarso! Sono un buon piragna che mangia! 1 a 5! Vai vai vai! Dai 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 che manca poco! Fatti mangiare! Nooo! Mancava pochissimo! Allora questo piragna... Si! Si! Si ha fatto guadagnare un sacco! Vai fai l'upgrade dei soldi! Facciamo i soldi dai che se ne danno di più! Però aspetta però aspetta aspetta aspetta! Soldi? Servono altri pesciolini da fare da più! I pesciolini costano troppo eh! Ma come? Ma io volevo i pesciolini! Vi dito che hai giocato poi 3 volte! Io gioco altrettante volte! 3 volte basta per giocare eh! 3! 4 dai! Guarda guarda! Guarda dai dai! Davanti a te sono tutti veri! Gnamme gnamme gnamme! Gnamme 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 gnamme! Gnamme gnamme gnamme! Gnamme 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 gnamme! 5! Dai molly forza! Forza forza quello da 4! Il pesce spada quello da 4! Oh! Pesce spada! Dai! Pesce spada Rebby! Per 6! Siamo il pesce spada siamo! Ce l'abbiamo fatta! Vediamo quanto abbiamo guadagnato! Allora 3,50! 3... Un altro! Oh iniziano a costare sti pesci eh! Attenzione! Vai! Che brutto la Rebby! Piraneo! No quelle molly! Vabbè tassomiglia! Upgrade i soldi e rigioco! No basta! No ho giocato due volte! Tu 4 volte avrei giocato! No 3! Guarda sta ridendo! No mi fai ridere te! Questa è la tua quarta volta! Ma mi fai ridere te! No non me ne prego niente! Io dopo gioco 5 volte! Allora non te lo lascio! Allora di nuovo guarda! Pesce spada! Attenzione! Mi mangio tutti sti pesciolini! Dai dai mangio anche quello! Anche l'altro! Mmm buone! Un altro pesce spada! Vai! 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 Squalo e martello! No vabbè! Ma lo squalo... E' pesce cane questo o lo squalo e martello? No ma abbiamo finito! C'è il livello più alto di qua non c'è! Guarda la davanti! Ah c'è qualcosa! Lo vedi là a destra che c'è qualcosa che si muove? E' una balena! E' una balena! Allora no! Devo fare l'upgrade! Tu hai fatto gli upgrade! Allora! Tu sei una balena! Io non sono una balena! Una balenottera! Ma dai! Ma dai hai spregato tutto! Eh ma non c'erano abbastanza pesci! Andiamo! Devi arrivare al livello 10 perché secondo me ho visto uno squalo là davanti eh! Pesce pesce pesce! Potrebbe essere la battaglia boss finale! Attenzione! Attenzione! Guarda quanti pesci che ci sono! Mangia! Forza! Mangia! 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 Che nonna ti vede sciupato! Secondo te dopo il set da sei qualcosa? Mangia! C'è l'infinito e oltre! Eh che l'infinito e oltre! Attenzione! Ma perché io sono così scarsa in questo video? Vai vai! Guarda che là davanti c'è uno squalo! Te l'avevo detto! Eh è qua! No davanti a quello! Eh laggiù! Allora adesso lo vado a cercare! Upgrade! Upgrade! Voglio fare l'upgrade dei soldi! Oh hai già giocato una volta! Vabbè ma te hai giocato troppo lento! No no! Ho giocato tre! Dai ma guarda va troppo lento! Non c'è tipo un upgrade della velocità! Ma guarda sei tutti i pesci da 5 davanti! Ma cosa? Lì ce ne sono due! Eccoli! Guarda guarda guarda! Ti sei lasciata scappare la razza! La razza è qui guarda! La razza è qui e ci sono altri pesciolini! Mangia quello da 5! Sì ma come si fa qua? Oh non se lo fai diventare il pesce cane! Non riesco! Non se lo fai che scappare! Dai ma perché non riesco a fare il pesce cane? Oh già due volte hai giocato eh! Vabbè smetti di contare le volte più! Eh il pesce cane è il pesce martello qua ragazzi! Io boh! Attenzione! Secondo me è il martello perché sa due cose! Alt! Ok! Alt! No! Non puoi fare nulla! Vabbè giochiamo! Ho tre! Tre cicciabella! Allora dove vado dove vado? Qua ci sono le razze davanti! To 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 to! No non riesco a prendere! Le razze! Guarda 4 più 4! Ma perché mi è venuta fame? Eh che schifo! Ho voglia di sushi! Il pesce! Il pesce! Oh attenzione! Il pesce martello è gigante! Attenzione! Attenzione! Perché sei partito dal livello 5! E perché io non riesco a prendere tutti questi pesci che prendi te? Perché io sono più furbo! Attenzione! Nell'oceano sopravvive chi è più furbo! Guarda guarda che non ce la fai niente! Per arrivare allo squalo martello! Niam! 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 Attenzione! Niam! No dai razza! Dai non ce l'ho fatta! Non ce l'ho fatta! Ma io ce l'ho fatta prima! Eh ma prima è stato un miracolo! Un caso! Guarda allora! Upgrade! I soldi! I soldi! No hai usato tutti i nostri soldi ecco! Eh perché guarda! Nooo! Te l'avevo detto io! Guarda eh! Another one! Uh! Guarda da davanti ci sono i pesci! Ah no! Sono ancora da 3! Sono da 3 sono da 3! Fatevi mangiare! Niam! 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 Devi arrivare a 75 eh! Si ma dai! Ma non ci sono abbastanza pesci! Come faccio? Avevo detto io che non ce l'ho fatta! Come faccio? Non ce ne sono abbastanza! Eh ma infatti questi livelli sono cattivi! Ci fanno volatilizzare! Niam! Niam! Vediamo ragazzi! Io voglio vedere se dopo il 7 se qualcosa! Ci siamo bloccati ragazzi! Non andiamo più avanti di qua! Allora! Però forse non possiamo fare un upgrade! Non possiamo fare niente! Ho fatto l'upgrade dei soldi eh! Attenzione! Allora! Qua ne vedo abbastanza! Vai! Vediamo! Bisogna essere bravi, furbi e veloci eh! Potevi prendere l'altro che era più cicciotto! Niam! Gli ho presi! Allora! La razza! Guarda! Guarda! Niam! 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 Dai! Dai! Guarda! No! Non ce la faccio Rabbi! Hai giocato uno squalo gigante! Eh l'ho visto! No! Oh! C'ero quasi eh! Quasi! Quasi! Vabbè! Squalo martello l'hai ripreso! Guarda che là davanti c'è qualcosa che si muove! Hai giocato tre volte! Aspetta! Ti faccio gli upgrade! Hai giocato tre volte! Ti faccio gli upgrade e mi dovresti dire bravo! Guarda! No! Vai! Oh! Siamo subito pesce spada! Attenzione! Attenzione! Perché col pesce spada si potrebbe mangiare qualcosa di più! Vediamo tipo questo! No! Quello al 7! Quello no! Fai un po' così! Fai un po' così! Va bene! Facciamo un po' così! Un po' così! Facciamo e non ne abbiamo preso neanche uno! Ok! Rabbi! Allora! Se arrivi al livello 8 secondo me andiamo contro il boss! Te dici? Secondo me se lo squalo bianco! Non so! Mangio! Che non lo diventa più male! E guarda manca pochissimo! Dai! Mancava poco! Carsissimo! Non è vero! Guarda! Sono arrivata comunque lì! Ce l'ho visto! L'ho visto! Attenzione! Vediamo un po'! Ma questi pesci costano sempre di più! Costano sempre di più! Basta! Non ci sono più! Oh! Ce la devi fare! Se non ce la fai ce la faccio io dopo! Aiuto ragazzi! Mi stai mettendo ansia comunque! Magna! Magna! Nei pochi! Guarda! Qua! Stai già sprecando! Lo sto sprecando! Guarda! Mamma mia che sprecona! Che sprecona! Qua! Qua! Vai! Qua! 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 Questo! 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 Come si squalo! Sì! Anzano è squalo bianco! Squalo bianco! Attacca! 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 Sì! Cioè qua.. Super Vittoria! No dai fammi fare! Adesso bisogna fare un sacco di pescionei! Ho fatto tutto io prima! Super Vittoria! Guarda! Fammi fare per piacere! Allora vediamo! Io però vorrei Arrivare allo squalo Perché magari sblocchiamo la nuova mappa No si sblocca solo Te lo dico io quando Abbiamo abbastanza monetine E abbastanza pesci da creare lo squalo Nella nostra griglia Infatti bisogna far così Però per farlo bisogna creare più pesci Quindi bisogna Vieni qua 999 Si vorrà una vita E' impossibile Dobbiamo già partire dallo squalo Dobbiamo già partire infatti dallo squalo Sennò è impossibile 2900 però Io farei l'upgrade delle monete Sì ma costa tantissimo Così guadagniamo di più Costa veramente troppo Vediamo se la Rebby aveva ragione Vediamo Magna Magna Devi prendere quelli più grossi Quello da 5 Quello da 7 Un altro 147 devi arrivare Allora vediamo 18 Sì vabbè ma guarda quanto si vuole Impossibile dai Guarda il 999 Secondo me dopo lo squalo Sblocchiamo la prossima mappa Eh ma è impossibile Battere lo squalo Non riusciremo mai 999 Infatti è difficilissimo Vediamo Vabbè Proviamo No è difficile Se è già questi guarda Si mettiamo 3 ore Io direi di far così Ok Adesso si fermiamo qua Ma se volete che diventiamo Uno super squalo incredibile Fatecelo sapere qua sotto In un commentino E lasciate un bel mi piace Per quanto riguarda oggi è tutto Ma ci vediamo prestissimo In un nuovo fantastico video Ciao Ciao Ciao